Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima review o recensione dedicata alla marcia di Wailoran, il fucile di precisione dello standardo di ferro, nonché è un'arma tanto discussa per via del fatto che è anche il fucile di precisione con lame assist maggiore. E apro dunque una piccola parentesi per tutti coloro che ancora non sanno che cos'è lame assist, molto semplicemente in tutti gli shooter, all'interno del software, all'interno del gioco stesso c'è una sorta di algoritmo che influisce sul prendere la mira e sulla direzione dei colpi. In Destiny questa componente è molto accentuata, molto più che nella maggior parte degli altri shooter. Prendiamo ad esempio i quick scoop che sicuramente tutti voi sapete cosa sono, quelli nascono soltanto dalla presenza delle lame assist, ossia questo algoritmo presente all'interno del titolo stesso che effettua delle microcorrezioni nella vostra mira e vi facilita quello che è il prendere la mira e alla fin fine anche quello che è uccidere. Per verificare con mano questa cosa provate a giocare nel crogiolo ad esempio con il rompighiaccio o il fuso martellante che sono due delle armi con lame assist più basso e subito dopo provate ad utilizzare la marcia di Wailoran, spezza quiete, sguardo perso o la sfida di Yasmin. Noterete una differenza abissale in quella che è la difficoltà nell'acquisizione del bersaglio e lame assist influisce proprio su questa difficoltà. Chiusa questa parentesi parliamo della marcia di Wailoran. Partendo subito dalle statistiche, la marcia di Wailoran presenterà una cadenza piuttosto elevata, un impatto quasi al minimum, gittate stabilità ottime, tempi di ricarica eccellenti dei caricatori di 5 colpi. E le statistiche di base sono ottime se non per l'impatto che è dannatamente basso, uno tra i più bassi tra i fucili di precisione. Il problema di base non sarà soltanto che non basterà un colpo per uccidere qualcuno che si rianima su Osiride, su Schermaglio, nelle modalità in cui comunque la rianimazione è abilitata, ma bensì è che spesso nemmeno due colpi al corpo basteranno per uccidere un nemico, soprattutto quando il nemico sarà ad esempio un titano full armatura. C'è da dire però che appunto tutte le altre statistiche sono medio alte, il che lo rende ottimo per quelle giocate che magari prevedono l'uso del cecchino per effettuare la prima uccisione, o comunque la prima o la seconda, ma non per giocarci interamente una partita. Passiamo a parlare invece dei perk, come al solito, due perk singoli e due sottopotenziamenti. Il primo perk singolo sarà anche quello di minore importanza e quello che consiglierei io, incredibilmente, è rimborso parziale. Gli assist possono ripristinare i proiettili nel caricatore, non è eccessivamente utile ma come ho detto è quello di minore importanza e su un'arma in cui spesso vi troverete nella condizione di fare soltanto assist, cercarne di ricavare qualcosa non mi sembra una brutta idea, quindi vi consiglierei questo perk. Nel secondo perk invece naturalmente vi consiglio solo ed esclusivamente mano celata, andrà a facilitarvi quello che alla fine è l'effettuare colpi critici, quindi colpire in testa i vostri nemici. E senza dubbio il perk è migliore su un'arma di questo genere, quindi consiglio esclusivamente questo. Parlando invece dei due rami di potenziamento, nel primo ramo ci saranno le ottiche, e in questo caso trattandosi di un fucile di precisione che sfrutta tantissimo l'hame assist, concentratevi esclusivamente su questo parametro, quindi prendete in considerazione le ottiche che modificheranno questo valore. In descrizione vi lascerò un link di un articolo di reddit in cui associa ogni ottica a quanto aumenterà o diminuirà l'hame assist, regolatevi di conseguenza. Per quanto riguarda invece il secondo ramo vi consiglierei o qualche perk soltanto di utilità come ad esempio istantanea che vi consente di mirare più rapidamente, o perché no un calibro ristretto che aumenterà gittata e stabilità a discapito della velocità di ricarica che rimane comunque ottima e della dimensione del caricatore. Sconsiglio la maggior parte degli altri perk perché tutti andranno a diminuire la stabilità o la gittata, o saranno completamente inutili come ad esempio i proiettili esplosivi, quindi vi consiglierei di concentrarvi soltanto su questi due perk. Alla fine però quest'arma funziona benissimo già di base con mano celata e una buona ottica. In conclusione, la marcia di Wailoran si presenta come un fucile di precisione molto particolare. Questo perché seppure è anche il più comodo da utilizzare, una buona stabilità, caricatori capienti, tempi di ricarica ottimi, l'impatto rimane molto problematico e nelle modalità come ad esempio Osirio, Deschermaglio o comunque dove c'è la rianimazione abilitata, il non poter uccidere qualcuno che viene rianimato, il non poter uccidere eventualmente una superattiva, o addirittura il non poter uccidere un nemico con due colpi al petto spesso risultano in una situazione piuttosto fastidiosa. Di fatto però per effettuare quella che sarà sempre la prima uccisione, le prime due, è un'arma comodissima e lo stile di gioco a cui va associato questo cecchino è kill più push, ossia effettuate un'uccisione, sfruttate il vantaggio numerico e andate a prenderli a casa. In quelle occasioni sarà semplicemente devastante, ma se appena appena prenderete tempo e l'avversario inizia a rianimare i suoi compagni, non ce la farete più e l'arma risulterà praticamente inutile. Dunque ragazzi, per quanto riguarda la marcia di Wailoran è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che questo video sia stato il vostro gradimento e il vostro interesse, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici e appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!